Massimo Bitonci, il governo Renzi approva un altro decreto Salva Roma, in qualche modo cercano ancora di dare i soldi del Nord alla Capitale? Ma questa è la terza volta che viene riterato un decreto che ha i medesimi contenuti, questa volta è stato inserito anche dell'altro. Io direi che è una linea completamente sbagliata, che ha dei profili anche di incostituzionalità. Io auspico che il Presidente della Repubblica non firmi questo decreto e anche che ci sia una sollevazione popolare da parte degli 8.000 sindaci d'Italia che vengono discriminati. Non esiste solamente Roma, ci sono molti sindaci che devono sottostare il patto di stabilità, che vengono introdotti criteri di virtuosità e con i criteri di virtuosità certamente Roma verrà altro che aiutata, ma direi bastonata. Il tema è quello che quando ci sono situazioni di questo tipo, come succede all'estero, una città con un bilancio così negativo, con 18 miliardi di buco, certamente dovrebbe essere commissariata e dovrebbe essere dichiarato quindi il fallimento e una verifica di quella che è la situazione per poter uscire da questo stallo che ormai è diventato molto pesante. E' proprio per questo che questo weekend avete raccolto più di 100.000 firme per l'indipendenza del Veneto e per dire basta a situazioni come quella del Salva Roma? Il tema dell'autodeterminazione dei popoli è un tema europeo che noi rivendichiamo. Noi vogliamo che venga fatto un referendum, un referendum di libertà perché la gente possa decidere di votare sì o no. Stiamo lavorando per questo, sono state raccolte più di 100.000 firme ma continueremo perché c'è richiesta da parte della gente di continuare a firmare e quindi andrà avanti anche nei prossimi giorni. Sarà un ottimo, un incredibile, ottimo risultato che aiuterà il nostro governatore Zaia, la Giunta e il Consiglio a prendere una decisione definitiva per quanto riguarda una soluzione sul referendum possibile in Veneto. Grazie a tutti.